Eros Ramazzotti con Terra Promessa, il nostro Crystal History delle 8, invece sono già alle 8.06, pensate, già arrivati alle 8.06 di oggi giovedì 18 aprile e il giovedì si parla ovviamente di teatro qui a Good Morning Milano insieme a Tamara Malleo. Buongiorno Tamara! Buongiorno Fabio, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Allora, l'abitudine del teatro, come insomma l'hai soprannominata tu, mi piace molto, continua. Tre appuntamenti anche questa settimana e iniziamo subito con La Barca, che è un teatro che si trova in zona sud di Milano, Metropolitana Verde, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, quindi quelle fermate, diciamo così, della Metropolitana Verde. La Barca è un piccolo spazio teatrale che dà voce alle giovani compagnie. In questo caso abbiamo la compagnia Tristezza Ensemble, che porta ALDST Project, significa al limite dello sputtanamento totale. Il protagonista è Viola Marietti, che è una giovane attrice che si sta fermando nel panorama del teatro italiano. La regia è di Matteo Gatta, di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa, in questo momento è in scena il suo Gramsci Gay. La regia appunto è di Matteo Gatta e di Viola Marietti. La drammaturgia invece è di Gabriele Gerezza Albanese. Allora, al centro c'è la storia di questa ragazza, tra una ragazza che ha un'età tra i 20 e i 30 anni, con tutto quello che le succede nella vita, diciamo così, in una vita molto complessa, molto travagliata, incasinata. Lei sa di essere una persona molto incasinata, immatura, che tenta di sopravvivere, diciamo, al disastro che le ruota intorno, tra famiglia, relazioni. La cosa che mi è piaciuta di questo monologo, che in realtà è un po' stand up e un po' invece è un percorso all'interno di un, diciamo così, di un disvelamento col pubblico, perché a volte ci si rende conto di vivere in un tunnel di disagio e condividerlo in qualche modo, grazie al teatro, può essere un modo per, diciamo così, per vedere riflesso nell'altro qualcosa che è dentro di noi e che in qualche modo non riusciamo a esprimere a parole. Appunto, Viola Marietti invece questa cosa l'ha fatta, l'ha espressa a parole, attraverso chiaramente un linguaggio teatrale divertente, ironico, a tratti surreale, e ci porta appunto in un mondo che è molto legato a un mondo giovane che mostra quanto a volte è difficile relazionarsi con una realtà che non ci appartiene, ma che in realtà dobbiamo, con cui dobbiamo convivere, no? Una realtà che riguarda sia gli affetti familiari che gli affetti personali, che è una realtà che ci impone comunque delle, insomma, delle scelte di vita che a volte non siamo pronti a fare. Quindi, La Barca, sabato 20 e domenica 21, Metropolitana Verde, fermata a Sant'Agostino o Sant'Ambrogio, quindi quella zona. Allora, poi ci spostiamo e andiamo in un teatro che tu conosci molto bene, che è il Teatro della Cooperativa, che in questo caso accoglie, in questo fine settimana, cioè domani, sabato e domenica, uno spettacolo meraviglioso che si chiama Animali Domestici. è uno spettacolo di Antonio Mingarelli, con in scena due interpreti strepitosi, che sono Cristi Allarosa, di cui abbiamo già parlato nelle settimane scorse, e Alice Raffelli. Allora, al centro c'è un fatto di cronaca, perché c'è una storia che tutti noi conosciamo, che è andata alla ribalta. il 3 febbraio del 2018, a Macerata, un giovane, Luca Traini, spara alcuni colpi di pistola nel centro città da una vettura in movimento, e vengono feriti sei immigrati. Lui, dopo aver sparato, scende dalla macchina, con il tricolore legato al collo, con il saluto romano, e il grido viva l'Italia. Quindi, si parte da questo fatto di cronaca, che però non è un fatto circostanziale. In realtà, lo spettacolo ruota intorno alla storia di questo ragazzo, Luca, che viene, diciamo, seguito prima che compia questo fatto, e parallelamente si sviluppa la storia di una ragazza che frequenta la scuola davanti alla quale si svolge questo fatto, e si mettono a confronto due umanità, due umanità disperate, due umanità che vivono una solitudine avvolta in un silenzio rumorosissimo, e che questo rumore li porta, anche loro, quindi ritorna questa parola, li porta in un tunnel di apatia che si sviluppa poi in forme diverse, in una violenza estrema, in un'apatia che viene scossa soltanto dalla violenza. quindi vengono messe a confronto in maniera molto interessante queste due realtà, parallelamente, e in qualche modo il centro del racconto non è tanto appunto il fatto di cronaca, ma quanto quell'umanità può, in quel silenzio, raggiungere dei livelli di violenza assoluta. e quindi è uno spettacolo davvero molto intenso, molto forte, però sicuramente anche per ragazzi e ragazze molto giovani, secondo me è una visione da condividere. Siamo al teatro della cooperativa, zona di guarda, e quindi anche questa, diciamo così, zona di Milano viene coperta, siamo partiti da Navigli, anzi dalla zona Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, per arrivare invece in zona di guarda. Ci spostiamo ancora, e andiamo in questo caso invece in zona Piazza Tricolore, quindi si raggiunge in questo caso anche con la metropolitana adesso blu, quindi avete anche un altro... Bravissima, con anche indicazioni comode ci dai. Anche la nuova metropolitana, così abbiamo tutti i teatri raggiungibili con la metropolitana, stiamo parlando del teatro Menotti. Allora, in questo caso stiamo parlando di uno spettacolo, secondo me anche questo da vedere, perché stiamo parlando di il... Allora, sì, Senno, Senno, allora perché c'è questo doppio titolo che racchiude appunto il senso di questo spettacolo, la protagonista è Lucia Mascino, un'attrice da vedere sempre, perché porta in scena un modo di raccontare unico, la regista è Serena Snigaglia, che conosciamo tutti come, anima di Atir Teatro, per tantissimo tempo in questo momento, è direttrice artistica del Carcano insieme a Lella Costa, e la produzione è una produzione del Carcano, al centro c'è la storia di questa psicoterapeuta, che è chiamata da un tribunale inglese a valutare una madre che ha consentito alla figlia di fare un intervento al seno per ingrandirlo. quindi in questo caso è un monologo provocatorio che riflette sul senso della bellezza, su ciò che intendiamo come sinonimo di bellezza, ma al tempo stesso si parla di una donna che affronta le sue sofferenze nei confronti di una relazione madre-figlia, di ciò che la società richiede ad una donna all'interno del suo percorso, ma anche di ciò che è la responsabilità di una madre nei confronti di una figlia, anche rispetto a quello che la società impone come valore rispetto alla figura della donna. Lo so che siamo appunto di prima mattina e i temi in questo caso sono sempre abbastanza importanti, però cerchiamo di fare sempre dei viaggi che portino sempre dei racconti vari, però secondo me questi temi sono temi fondamentali e il teatro appunto permette di fare dei viaggi importanti anche attraverso temi di un certo peso, diciamo così, che però il teatro rende molto, diciamo così, che possono essere attraversati senza essere travolti da questi temi, ma sostenuti da tutti gli strumenti che il teatro ci dà. Quindi in questo caso, ricordiamo lo teatro Menotti, si raggiunge anche con molti mezzi di superficie, ve lo ricordo, perché c'è la 61, c'è la 54, quindi si raggiunge, c'è anche il passante ferroviario, che non ce lo dimentichiamo, tra Porta Venezia e Dateo, quindi è raggiungibilissimo il teatro Menotti con una programmazione che anche nelle prossime settimane si fa molto interessante, quindi ne riparleremo. Il nostro viaggio per oggi è finito, è il tuo, no? Bisogna fare veramente, dovremmo fare un tour col tram che passa attraverso tutti, e tu che fai, ci racconti i teatri che incontriamo lungo la strada. Dobbiamo pensarci. Sarebbe molto bello farlo, perché in realtà, secondo me è un bel viaggio, col tram poi, secondo me, si raggiungono anche molti spazi. Poi appunto, c'è anche da dire che io tanti spazi non li racconto, perché magari non li conosco, e quindi cerchiamo sempre ogni volta di aggiungerne qualcuno, quindi lo cercheremo anche per voi. Eh no, infatti, grazie appunto a Tamara e a tutti i suoi viaggi che ci fa fare attraverso questa città, attraverso appunto le eccellenze del teatro che avvengono e ci sono appunto a Milano. Tamara, prima di salutarci, ricordaci dove possiamo trovarti e seguirti. Grazie Fabio, come sempre. Allora, potete seguirci per altri racconti di teatro il venerdì a Teatromania sul canale Milanao 191 del Digitale Terrestre in streaming su www.mediapason.it slash Milanao o il lunedì sera alle 23.30 su Antenna 3 canale 11. E lì vengono anche a trovarti, no? Spesso volentieri proprio gli attori, i registi, giusto? Anche domani avremo degli ospiti che insomma verranno in studio a trovarci, a condividere delle storie. Chi viene? Partono dal teatro, ma vanno anche in altri mondi tipo podcast, eccetera. Quindi domani. Chi viene? Chi viene? Chi viene? Raccontaci chi viene domani, dai. Domani, allora domani guarda, parleremo di Nanni Svampa, che secondo me appunto la tua trasmissione ne ha parlato e ne parla, perché comunque è un personaggio per Milano molto importante e si farà la prossima settimana una giornata al teatro F. Puccini per ricordarlo attraverso degli studiosi di Nanni Svampa, ma anche degli artisti che ripropongono appunto le opere di Nanni Svampa e quindi ci sarà tutta una giornata in cui chiunque vorrà potrà partecipare, potrà rivivere insomma tutto il percorso di Nanni Svampa. Poi parleremo di un podcast che si chiama Case da Ricchi, di un ragazzo, un attore che io sto seguendo che è Daniele Turconi. Poi parleremo di Marianne Esposito che è l'anima di Teatring, che è una compagnia che si pone come obiettivo quello di far diventare il teatro un punto di riferimento per la comunità, diciamo così, cittadina e quindi attraverso le sue attività dai bambini e le bambine agli adulti fa tutte delle attività più degli spettacoli che appunto condivide con il pubblico e poi parleremo anche noi di Animali Domestici perché appunto è uno spettacolo in cui io credo moltissimo e che sostengo appena posso perché secondo me ha un valore davvero molto profondo anche se è complesso perché appunto fa un po' paura visto che si parla di violenza, si parla di morte, si parla insomma di situazioni che possono far paura ma devo dirti che Antonio Mingarelli riesce a portarci attraverso le parole di Caroline Baglioni che è l'autrice del testo in un mondo con grande delicatezza, con grande attenzione, con grande cura, quindi tutto questo appunto lo potete seguire grazie a Tamara Malleo cercate anche sui social Tamara Malleo anche Milanao lo trovate quindi potete tranquillamente seguire tutto quello che fate grazie mille a te Tamara noi ci vediamo in realtà sabato perché sarai anche tu presente ai Milano Non Profit Awards in qualità di ospite che salirà sul palco a premiare una categoria non mi ricordo quale però in senso sarai lì a leggere la busta The Winner Is e anzi l'emozione sono io emozionata altro che premiati ricordiamo appunto che sabato mattina comunque in diretta su Milano All News potete vedere la giornata finale appunto le premiazioni dei Milano Non Profit Awards ricordiamo anche Crystal Radio tra i media partner e anzi saranno anche presenti alcune esponenti di Crystal Radio che saliranno anche loro sul palco a premiare penso con te Tamara tra parentesi non mi ricordo male se non mi ricordo male fate la combo infatti benissimo grazie mille Tamara allora a sabato e poi invece ci risentiamo e ci rivediamo giovedì prossimo qua ancora con l'abitudine del teatro a te grazie mille Tamara Malleo andiamo avanti con la musica quella che spacca così dicono ogni tanto non lo so però sa di fatto che in Nirvana sicuramente sono quelli che spaccano in Nirvana con Smells Like Teen Spirit Grazie mille